Il deputato regionale Udc Giovanni Ardizzone è il presidente eletto a Sala d'Ercole per la guida della sedicesima assemblea regionale. L'avvocato 57enne Messinese, deputato regionale dal 2001, è stato eletto presidente alla seconda votazione con il quorum minimo, ovvero 46 voti. Nel primo scrutinio i candidati alla presidenza dell'Ars erano stati quattro, ovvero i parlamentari Venturino del Movimento 5 Stelle, Ruggirello della lista Musumeci presidente, Anselmo eletta nella lista Crogetta e Gianni dell'Udc. Nessuno degli aspiranti presidenti però ha raggiunto i due terzi dei voti, pari a 60, quindi si è dovuti passare alla seconda votazione. I partiti di maggioranza quindi hanno candidato l'onorevole Ardizzone. La scelta al deputato dell'Udc prevede un'apertura anche alle formazioni politiche autonomiste di centrodestra, anche nelle strategie politiche di Palazzo dei Normanni, potrebbero consentire al governo regionale di contare su una maggioranza reale. Patto quest'ultimo che porterebbe in linea con il presidente Crogetta 46 onorevoli su 41 iniziali, dato che coincide con il numero di voti attribuiti allo stesso Ardizzone. A scrutinio chiuso, il deputato Venturino del Movimento 5 Stelle ha ottenuto 15 voti, quattro invece le preferenze accordate al lupo del PD e due voti ciascuno, per cancelleri del Movimento 5 Stelle e per i deputati regionali del PD Arangio, Cracolici ed Alloro. 13 sono state le schede bianche. Sono onorato di poter guidare i lavori di quest'organo e al tempo stesso sono consapevole delle responsabilità che gravano sulla mia persona nel momento in cui mi accingo ad assumere questa carica. Posso assicurarvi che cercherò di condurre i lavori di quest'Assemblea in modo imparziale, garantendo il libero confronto di tutte le opinioni nel rispetto delle regole del dibattito democratico. La legislatura regionale che si apre in questi giorni si inserisce in un contesto economico-sociale che inevitabilmente ne condizionerà l'attività.